E abbiamo visto insieme un pezzo di storia del calcio lombardo. Adesso parliamo di medicina, perché all'Istituto Cardiologico Monzino c'è un ambulatorio all'avanguardia che segue i pazienti dimessi dopo interventi molto importanti a distanza con la telemedicina. Ce ne parla Maura Tani. Come va la ginnastica respiratoria? Ok, quando vuole mi può mandare l'elettrocardiogramma. Milano, centrale di telemedicina dell'Istituto Cardiologico Monzino. Qui un team di infermieri specializzati, tecnici di fisiopatologia e cardiochirurghi segue 24 ore al giorno i pazienti dimessi dopo complessi interventi al cuore, ma anche malati affetti da gravi scompensi o da aritmie. Un servizio d'eccellenza gratuito e coperto dal Servizio Sanitario della Lombardia, avviato in questa struttura una quindicina di anni fa. Sono ormai più di 1500 i pazienti postchirurgici assistiti ad oggi. Un ambulatorio high-tech certificato e unico nel suo genere in Europa. La gestione domiciliare prevede che ci sia un contatto quotidiano tra il territorio e noi e viene fatto appunto dalla centrale con chiamate quotidiane, due volte al giorno, invio di elettrocardiogrammi, monitorizzazione su quelli che sono i parametri vitali del paziente. Poi ci sono al domicilio le visite degli infermieri, le visite dei fisioterapisti e dei cardiochirurghi laddove sia necessario. La cardiochirurgia non può essere una branca nella quale tutto si riduce al solo gesto chirurgico, perché in termini di risultati lo si vede nel tempo. Possiamo dire che la patologia cardiovascolare è una patologia cronica. Questo è un sistema di gestione della patologia sul territorio. Nel 2007 la regione Lombardia ha fatto di questo servizio un DRG, vale a dire è riconosciuto come qualsiasi alta prestazione ospedaliera. Perfetto, perfetto. Allora mi può dare i parametri? La pressione? I monitoraggi durano tre settimane, in caso di problemi si interviene subito. I vantaggi per il paziente sono molti. Le complicanze diminuiscono perché prima di tutto non ci sono rischi sovrainfettivi perché a domicilio non ha contaminazione di tipo ospedaliero. La seconda cosa, lui viene reinserito rapidamente in ambito della sua famiglia e quindi in ambito sociale. Chi l'ha provato promuove il servizio a pieni voti, come Francesco di Milano, che qualche mese fa ha affrontato un pesante intervento al cuore e poi ha goduto dell'assistenza domiciliare del Monzino. Ho fatto circa due settimane di ricovero e poi ho potuto usufruire del servizio di telemedicina del Monzino che mi ha assistito per circa tre settimane qui a casa. Penso che la componente psicologica in questi momenti sia importante quanto la componente clinica e questo da parte loro è stato un grandissimo aiuto. Cosa rappresentavano queste persone? Sia quelle che sentiva al di là del filo, sia quelle che venivano qui in casa sua? Beh, sono il legame, il cordone umbilicale con la struttura ospedaliera e il fatto di poterli sentire diverse volte al giorno, scambiare con loro anche solo qualche battuta è sicuramente un fatto di grandissimo aiuto e non mi sono mai sentito per queste settimane abbandonato un attimo.